Dopo oltre 57 anni dedicati all'arte orafa, il maestro artigiano Alano Maffucci chiude bottega in via Chiarini. Le sue preziose creazioni nel corso degli anni sono diventate un dono per tre papa differenti, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI ed infine Papa Francesco. I suoi saperi e le sue passioni negli ultimi anni sono state trasmesse ai più giovani, trasformando così la sua bottega in un'aula. Quello che ci deve interessare il più di tutti, il più di tutti, sono i giovani. I giovani ci sono, ci sono vagabondi, ci sono lavativi e ci sono bravi. Quelli bravi bisogna prenderli, io vado a fare con grande soddisfazione attigionate scuola. L'ultima lieva era arrivata addirittura da Bolzano per imparare il mestiere dal maestro orafo. Dal 2014 infatti Maffucci si era tuffato in questa nuova avventura piena di entusiasmo, quella di bottega scuola che abbasserà adesso la stracinesca. Mi ha servito tanto perché ho imparato prima le istruzioni di basi e adesso posso già cominciare a creare dei gioielli semplici e li posso fare totalmente da me e non ho bisogno che qualcuno mi stia dietro praticamente per seguirmi perché ho già ripreso la capacità di farli da soli. Grazie. 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 Grazie.